Nell'approfondimento di oggi andremo a trattare di un tema che ci permette di unire, come sempre, diverse prospettive e diverse materie. L'antologia, ad esempio, dove abbiamo studiato il comico e l'umoristico e abbiamo saputo riflettere su come, appunto, nel racconto umoristico, dietro a una risata, dietro a un sorriso di facciata, si c'è lì in realtà un ragionamento più profondo, anche una riflessione. Abbiamo ragionato su come si scrive un articolo di giornale, soffermandoci sull'importanza della foto, delle immagini, che a volte può valere più di mille parole. E infine, in storia, abbiamo ragionato sulla creazione delle prime riviste, sulla creazione, quindi, dell'opinione pubblica. Avviene tutto questo nell'epoca dell'illuminismo e, da quel momento in poi, sarà sempre più importante. Soprattutto avrà un ruolo di primo piano durante le rivoluzioni che dall'illuminismo prenderanno corso, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. L'approfondimento di oggi, quindi, tratta della satira, delle immagini e delle vignette, proprio nella creazione dell'opinione pubblica e vedremo, soprattutto, in che modi. Partiamo da quanto accade in terra americana, con questa vignetta che avevamo già iniziato ad affrontare. E rappresenta, appunto, un serpente diviso in tante parti, come tante erano, appunto, le colonie americane dell'inizio, appunto. Join or Die. Questa è la caricatura politica creata da Benjamin Franklin, inizialmente utilizzata in chiave antifrancese. Ricordate come nel Nord America la presenza francese si opponesse, appunto, a quella inglese. Ricordate le colonie del Quebec, della Louisiana, di New Orleans, anzi New Orleans, proprio per dirla alla francese. Quindi, all'inizio, questa vignetta viene utilizzata sui giornali americani in chiave antifrancese. Ben presto, però, verrà utilizzata in chiave antibritannica. Quindi, dai rivoluzionari americani e dagli indipendentisti. Join, ovvero unisciti o muori, ok? O cessa di esistere. Le colonie americane si sarebbero dovute unire, non ragionare in maniera singola, se, appunto, volevano continuare ad esistere. Quindi, vedete come l'utilizzo di una vignetta, anche molto forte, dal punto di vista iconografico, serviva per creare opinione pubblica, serviva per creare un'opposizione alla madrepatria e quindi a rendere ancora più compatto il fronte, invece, indipendentista. Le vignette più importanti, però, sono quelle, senza dubbio, che fanno riferimento alla rivoluzione francese, soprattutto per quanto riguarda l'ancien regime. Già abbiamo avuto modo di affrontare queste tematiche. Quasi sempre nelle vignette dell'epoca vi viene raffigurata una cosa simile a questa che vedete, questa vignetta satirica, appunto, della Francia, della Cina del Settecento. Ci sono due persone sopra un masso che grava sotto un'altra persona che è a terra, chiaramente sofferente per il peso di questo macigno, e le due persone in piedi sono la nobiltà e il clero, mentre la persona sdraiata, dove appunto cade questo sasso, è chiaramente il terzo stato, sempre più appesantito, gravato dalle tasse e dai privilegi di questi due ceti sociali. Abbiamo visto la vignetta qui a sinistra, dove viene raffigurata praticamente la stessa cosa, è curioso però vedere che c'era anche la sua componente femminile, ok? Non solo uomini, ma anche donne che fanno parte del terzo stato, della nobiltà e del clero. L'immagine è chiaramente la stessa e si vuole appunto sottolineare come il terzo stato, con il suo lavoro, con le sue tasse, con i suoi sacrifici, praticamente prendesse in spalla, quindi finanziasse il clero e la nobiltà e i loro relativi privilegi. le cose però iniziano a cambiare proprio durante la rivoluzione francese, in questa vignetta lo possiamo vedere per bene. Il terzo stato è ancora una volta rappresentato a terra, ma fa una cosa ben chiara, si leva le catene della prigionia e imbraccia un fucile, così clero e nobiltà fuggono via, disperati, spaventati. Questo è proprio l'emblema del popolo francese che durante la rivoluzione riuscirà a prendere le armi, riuscirà soprattutto a rialzarsi. Dovete pensare al lettore dell'epoca che vedeva questa vignetta. Dobbiamo pensare innanzitutto a chi è che poteva realmente permettersi di comprare un giornale e quindi di leggere queste vignette. Chiaramente membri del terzo stato, soprattutto quelli della borghesia o il terzo stato appunto è più elevato, quindi avvocati, grandi commercianti oppure anche insegnanti, insomma tutto quel terzo stato che sapeva innanzitutto leggere e che voleva essere informato. La forza però di queste vignette, la forza delle vignette satiriche è che un'immagine simile poteva essere compresa anche dall'analfabeta, anche dall'artigiano che non aveva studiato, anche dal contadino. Si capiva subito che qui nobiltà e clero stavano passando un brutto periodo e che il terzo stato finalmente si stava rialzando. Quindi la potenza delle immagini era soprattutto questa, saper poter arrivare anche in quegli strati della popolazione dove generalmente non arrivava l'informazione, dove l'analfabetismo purtroppo bloccava la diffusione di alcuni ideali. Stessa cosa per quanto riguarda questa vignetta, ad imbracciare il fucile qui c'è ancora una volta l'allegoria del popolo, ha già ucciso la nobiltà che è caduta e gli vengono anche portati via le ali, ora si appresta a fare la stessa cosa al clero che ancora vola. Della penna simile, della matita simile, sono queste altre due vignette che se non sbaglio abbiamo già visto in classe, che raffigurano appunto la famiglia regale e il re essere appunto raffigurati come degli animali, come nella fattispecie un maiale. Nel primo caso, nella vignetta che ha il numero 10, c'è appunto questo maiale che viene spinto dal contadino con la faccia di Luigi XVI. Nel secondo caso invece c'è proprio la famiglia reale che viene riportata con la forza a Parigi. Ricordate, dopo la presa appunto della Bastiglia e la rivolta popolare a Parigi, la famiglia del re proverà a fuggire, ma viene bloccata proprio in questa cittadina alle porte di Parigi e costretta a tornare nella capitale francese. Non cambia la situazione quando al potere arriva Napoleone Bonaparte. Attenzione però perché cambia chi è che crea queste vignette. La satira anti-Napoleone viene fatta soprattutto in ambienti inglesi. Gran Bretagna e Francia sono le cerrime rivali di questa fase della storia. Questa vignetta l'abbiamo già potuta affrontare. Da una parte appunto il piccolo Napoleone, descritto, raffigurato sempre così, ovvero particolarmente basso, particolarmente insomma dai tratti infantili. Dall'altra parte invece c'è Orazio Nelson, più regale, più impostato anche nel modo in cui si è. I due che cosa fanno? Stanno mangiando e si stanno spartendo il mondo. Ma mentre Napoleone con questa faccia veramente affamata, agguerrita, si prende l'Europa con molta più calma, la Gran Bretagna si prende una fetta molto più ampia del mondo. Nella fattispecie si vede l'Oceania ad esempio e tutta la parte delle Asie. L'India e il Pakistan saranno delle colonie importantissime per l'economia francese. Sempre la contrapposizione tra Inghilterra, Regno Unito e Francia avviene in questa vignetta dove l'ammiraglio Orazio Nelson riporta dalla campagna d'Egitto due coccodrilli dove troviamo anche la faccia, il volto di due ufficiali francesi. Abbiamo già parlato di questo particolare. Orazio Nelson non ha la mano destra perché appunto il braccio destro l'aveva perso durante un combattimento. Ancora una volta il difetto fisico di Napoleone particolarmente basso viene messo in risalto in quest'altra vignetta dove invece l'ufficiale inglese viene raffigurato molto più grande e infine stessa contrapposizione anche in questa vignetta. Qui fa la sua comparsa però una nuova figura. Arriviamoci però per gradi. In mezzo chiaramente troviamo il canale della Manica, il canale che separa l'isola della Gran Bretagna dal continente europeo. A sinistra c'è il buon Napoleone che fa marcia indietro, ovvero non può superare il canale della Manica. Lui sa di non poter attaccare la Gran Bretagna direttamente sull'isola. sarebbe un'impresa totalmente folle ed è per questo che anni prima la Francia decise di attaccarla sulle coste dell'Egitto, importante tassello nello scacchiere economico inglese perché metteva in comunicazione appunto il bacino del Mar Mediterraneo e quindi l'Europa con le Indie. Dall'altra parte però troviamo questo signorotto seduto con questa bella pancia e un boccale di birra schiumante in mano. Questo qui chi è? Questo è John Bull ed non è nessun personaggio storico realmente esistito ma l'allegoria del Regno Unito, ovvero l'immagine della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, dal punto di vista proprio dell'allegoria politica. Che cosa sto dicendo? Ogni stato aveva all'epoca una sorta di immagine, qui vediamo la stessa cosa, ancora Napoleone da una parte e John Bull dall'altra. Ogni stato soprattutto a questa altezza ma poi anche nel corso di tutto l'Ottocento e il Novecento avrà un emblema, un simbolo, un'immagine dei tratti umani che deve un po' raffigurare tutta la nazione. Se per il Regno Unito appunto è questo John che qui vediamo nella campagna invece per la leva militare, chi è assente sei te, ovvero sei te che vuoi essere assente quando appunto la Gran Bretagna e il Regno Unito viene chiamato alle armi, stessa cosa avviene per gli Stati Uniti con Zio Sam che sicuramente avrete visto tante volte e viene qui utilizzato sempre in un manifesto per la propaganda militare. Io ti voglio per l'esercito degli Stati Uniti, ovvero appunto ti voglio arruolato per difendere la nostra patria. L'immagine della Francia invece l'abbiamo già trovata nel dipinto di De La Croix ed è questa Marianne che può essere appunto emblema della libertà che nel dipinto dell'Uvr imbraccia il tricolore francese da una parte e dall'altra imbraccia invece la baionetta. Quindi Regno Unito, Stati Uniti, Francia e vi vedete voi. Ma l'Italia ce l'ha, una raffigurazione dei tratti antropomorfi appunto, ci sarà una allegoria della nostra nazione? Assolutamente sì, ed è questa, è l'Italia turrita, ovvero con in testa una torre. Questa è una statua che troviamo a Napoli ma ci sono anche diverse raffigurazioni. Questa è una in cui si capisce meglio il tratto appunto della torre in testa questa donna che imbraccia il tricolore, questa volta italiana. E l'immagine dell'Italia turrita verrà utilizzata tantissime volte, soprattutto come abbiamo visto per Zio Sam e John Ball per propaganda militare. Questa se non sbaglio è della prima guerra mondiale, potrebbe essere anche della seconda, bisogna vedere un attimino bene la datazione. Dice tacete, anche il vostro silenzio affretterà la vittoria, quindi veniva utilizzata per sensibilizzare il popolo e le truppe su tematiche militari e quindi di importanza nazionale. Questa è un'altra raffigurazione dell'Italia turrita, ancora una volta con il tricolore in mano. Tutto questo per dire cosa? come attraverso le immagini si poteva creare opinione pubblica. L'opinione pubblica voleva poter dire un antagonismo tra delle nazioni rivali, come appunto il Regno Unito e la Francia, poteva voler chiamare alle armi qualcuno, il popolo ad esempio contro i privilegi del clero della nobiltà, il popolo inglese o americano contro un nemico in guerra, ma voleva anche creare opinione pubblica. L'opinione pubblica in questa fase soprattutto dell'Ottocento e del romanticismo serviva a creare l'identità nazionale, a creare amor di patria e questo è soprattutto quanto accade in Italia. Attraverso queste raffigurazioni, attraverso anche queste immagini dell'Italia, molti volontari e rivoluzionari del risorgimento saranno chiamati appunto alle armi.